Angolo Tech, dove abbiamo il nostro partner che è qui dall'inizio di crossover MSI, in questo caso l'M14 ultra sottile, ultra leggero. Da buttare in borsa si può dire. Assolutamente sì, di ultra leggero sicuramente Rino. Ci eravamo preparati prima, io dovevo dire una delle poche cose ultra leggeri vicino a me, però va bene. Tutto bene ragazzi. Dedicato al target, al target business. Grazie.